Wuhuuu Ah che bella l'estate Ciao ragazzi saluto a Mattia Ferezzetta Dico Ferezzetta e Step46 Gamer Ferezzetta Ovviamente vi rispondete a questa domanda di oggi ovvero Ma la mia testa sembra una banana? No no spero di no Non sembra una banana vero Vabbè comunque Che bella questa vita Eh sì Cosa c'è tipo misteriosa? Ah ma sei qua fuori Sì sono qua fuori cosa c'è? Praticamente è passato Un tipo strano sotto casa Che ha suonato Era tipo vestito d'azzurro Vabbè Ha lasciato una scatola e c'era questa roba Pop it Gun Aspetta aspetta non usano Non usano non usano non usano Perché? Perché è la pop it gun quella È la pop it gun Oh mio dio è la pop it Ah cacchio ti ho detto Di non usarla mio dio Dammela 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 Ok tieni Oh cacchio Aspetta È la pop it gun Tu non hai capito È la pistola più forte di tutte Praticamente quando spari Ti crei pop it Guarda Eh che non è bellissimo Questa pop it gun È una cosa incredibile Sì lo so Lo so lo so E però bisognerebbe ricaricare Come li togliamo Ma come li togliamo questi adesso Cosa? Questi Eh purtroppo si tolgono con tanto olio di gomito Ma qua lì non è un problema Perché appunto puoi intanto premerli capito? Mentre ci giochi con la pop it gun Ok però devo ricaricarla Devo ricaricarla Cacchio Non so come ricaricarla Eh magari ci sono delle cartucce Vediamo aspetta vado a vedere Sì Ok vediamo Vediamo Ah sì sono qua Perfetto Ok 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 Ce li ho Ok ho ricaricato E adesso posso continuare a sparare Oddio Andiamo a fare gli scherzi ai miei amici Sei pronta? Mh Andiamo 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 Allora vediamo un po' Possiamo andare a casa di Elox Andiamo a casa di Elox Vieni 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 Oh sì 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 Ok Allora Eccoci qua Cacchio Elox ha modificato casa sua Ha fatto il suo garage Ok Oh che carino Ehi Elox Non era così Sì? Lontani Lontani Ehi Elox Come va tutto bene? Dimmi Tutto a posto? Che cosa hai? Ma lo smi Ah Ma C'è la donna di pop it? Sì Questa qua è la pop it gun È la pistola pop it Guarda qua Che figata Eh sì lo so È bellissima Oddio che figo Ah ti voglio saltare Sì è vero Bello Guarda puoi fare Il bello che posso È su un sito illegale Ciao Ryan Che sta succedendo? Cosa sono quei colpi? Sono pop it Sono pop it Che figata Wow è assurdo Sì lo so Lo so lo so Ora mi piace vedere una cosa più bella Ragazzi ma cosa non si spari Dalla un po' Oddio Oddio Eh la cosa Sveglia Ma che c'è che è questa roba? Sono i pop it Grucco Questa è la pop it gun Che figo Ma è bellissimo Ma facciamo Inquinamento Sbrin Inquinamento Ma di che stai parlando Tipo timida C'è tipo misteriosa Non è vero Guarda qua Secondo me questi pop it Sono Sono biodegradabili Possiamo creare un mostro Fatto di pop it Guardate Allora così Una scala Fatta di pop it Possiamo raggiungere il cielo Sì vai 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 Aia Ok Ma cos'è tipo l'albero? È un albero Un albero Ho fatto un albero È un albero di pop it Dai sali sopra a casa di Helox Che gliela distruggiamo No 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 A casa mia No no A casa mia Ok va bene Tranquillo Tranquillo Ok perfetto Andiamo sopra a casa di Helox Tutti quanti Venite 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 Ok Arrivo Ok Vedete che bella Questa cacchio di Di pop it gun È la pistola pop it Comunque Una cosa che voglio provare a fare Con questa pistola È Vedere Se Chi Se tu riesci A sopravvivere all'intern Per quanto tempo Va bene No 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 Dai Ecco così Sì È pericoloso Non dovresti Non voglio morire Non sarà pericoloso Appunto Dai Vi affrò come Vi affrò come Testo Mannaggia Mannaggia Ti affrì come testo Helox Ok Allontaniti Helox Ok Vai Ok Vai Vai Helox 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 Respira Dai 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 Ok Ah Ti cuori È molto fattibile Ti cuori hai Mi hanno allevato Tipo tre Ah poco Allora Vabbè Continuiamo Va bene Va bene Basta 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 Va bene Allora Quanti cuori hai È sempre Quasi tutti Porca miseria Allora Riesci ad respirare Nei pop it Questo perché c'è l'aria No Come no Dai scendiamo Oddio ragazzi Guardate Abbiamo fatto Una roba gigantesca Di Di arcobalenosa Ok Va bene Dai Dai la vado a posare Soprattutto dobbiamo metterci per pulire Ma questo dopo lo facciamo Vieni qua ragazza misteriosa Fai tutto te Non ho fatto niente Va bene Grucco Grazie Ciao Grucco Ci vediamo Ciao Ciao Ehi String Andiamo 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ecco Ti sei divertita? E' bella la pistola pop it Solo che bisogna tenerla nascosta Perché ho paura Che potrebbero venire Delle persone Ad utilizzarla Senza alcun Apparente motivo Quindi metto qua tutto Perfetto Comunque Cara Allora Io onestamente Ora in questo momento Devo andare a casa Di pro e noob Tu hai da fare Adesso No Non ho nulla da fare In caso vengo anch'io Devi venire Sei sicuro Perché sono Sono davvero strani Pro e noob Sei sicura di quello Per venire Ma sì sì Vi ho intravisti Sì sì Ok Va bene Andiamo Dai vieni Ok Sì Sfrizer Cosa Cosa c'è Noob Sfrizer Sei un pazzo Sfrizer Cosa c'è Una pistola pop it Una pistola pop it Sfrizer Non puoi utilizzarla Perché dai Sembra carina Cioè noob Non puoi utilizzarla È una pistola pop it Quella È una pistola pop it Sono maligne Sono malvati E poi Per colonizzare Mi trovarmi la pianeta Con quelle le nuove Sono illegali Non dici stati diversi Dai noob Non dire cavolate Non dire niente di che Lancia soltanto Dei così Plastico Cerco valenosi Ma questa macchina Mi sono trovata Nelle pringles No È la tipa timida Quella Nelle pringles Ma non mi Non c'entro Dentro il tubo Vabbè Comunque Noob Ascolta Secondo me Non è nulla di che Mi sono Hai presente Quel mostro di cui Mi stavi parlando Dei pop it Sì Ecco L'unica cosa Potrebbe fare Quella pistola È distruggere Quello mostro Sì Secondo me Potrebbe riuscirci Cioè effettivamente Magari Potrebbe riuscirci È capito Va bene Va bene Va bene Allora In cazzo Se esce quel mostro Di pop it Anche se secondo me È esploso Al massimo Lo distruggo Con quello Ecco Il mostro di pop it Sì I miei amici Hanno fatto un rituale Non so se hai notato Che c'è la mia piscina Appena fatta di pop it No Sì l'ho notato Però Ecco Praticamente Il vero problema Di quella piscina È il fatto che I miei amici Hanno fatto un altare E hanno fatto Arrivare Il mostro di pop it Proprio così Oddio Già Già Ma esiste davvero Una roba del genere Esiste davvero Ragazzi Allora Grazie per l'informazione Ok Ci vediamo ragazzi Ok Molto bene Quindi se Se dovreste arrivare Allora posso 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 distruggerlo In caso Però Cioè Io non ho mai visto nulla Speriamo di non vedere niente Ho sete Dove andare a bere Un bicchiere d'acqua Qualcuno Oh cacchio Allora vediamo Se funziona Ecco vai via 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 C'è il mostro di pop it Dove essere scappato No No Sono andato via Oddio Dove facciamo Dobbiamo rincorrerlo Non può andare lontano Per forza Dobbiamo rincorrerlo Andiamo 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 Ok Apriamo la porta Vai esci Oh mio dio Aspetta devo prendere le munizioni Ah vero Ok ce li ho Ce li ho Ecco Andiamo Dobbiamo prendere quel cavolo di mostro di pop it Vieni sbrigati Non deve essere andato lontano Eh eh